Mai avrei pensato di fare due video in un giorno solo, anche perché ne faccio uno alla settimana che commentiamo le partite mano a mano, che le giornate vanno avanti. Invece oggi commentiamo ben due video, porto ben due video, questa mattina c'è stato l'esonero di Sandriani e subito, oggi pomeriggio, non l'ho potuto fare perché ero in palestra, c'è stata l'ufficialità del nuovo allenatore del Gubbio. Non è Capuano, non è Nofri, non è Giunti, è Nanu Galderisi, un allenatore che ha già allenato il Gubbio nel 2004, che ci ha portato in zona playoff, perdemmo addirittura la semifinale playoff contro la San Giovannese allenata da Sarri, che adesso allena il Chelsea da Sarri, molti conosceranno Sarri ovviamente, penso tutti. Perdemmo la semifinale e fu l'anno che Galderisi ci allenò a noi. Allora, personalmente capisco la scelta che ha fatto la società di prendere un allenatore che già è stato nella piazza, già la conosce e quindi questo potrebbe essere un vantaggio per il Gubbio. Poi lui ha una nomina che è un allenatore fenomenale, fantastico, superlativo ogni volta che prende una squadra in corsa. I numeri parlano chiaro, infatti lui è subentrato anche quell'anno dall'allenatore di prima, che non mi ricordo come si chiama, che stava facendo male. E subentrò lui, anche perché nel 2004 avevo 11 anni, quindi si ricordo, ma non è che ricordo benissimo come una partita di qualche anno fa. Subentrò lui, vincemmo praticamente quasi tutte le partite e arrivamo in semifinale playoff. Quindi lui ha questa caratteristica che ogni volta che entra in corsa dà quel qualcosa in più alla squadra per cambiare completamente faccia. E speriamo che si verifica anche questa volta, perché comunque sia il Gubbio è una squadra che secondo me, ripeto, secondo il mio punto di vista, non ha dato nemmeno il 30% delle sue possibilità. Perché non posso credere che una squadra con Marchi, Especie, Casoli, Campagnacci, Casiraghi, Piccini, Marchegiani, Malaccari, Benedetti, tutti giocatori esperti per la categoria. E non posso credere che con una squadra così, che è addirittura più forte di quella dell'anno scorso, sia nelle posizioni basse della classifica. Secondo me questa squadra può dare molto, molto, molto di più. Staremo a vedere come sarà l'evolversi della situazione, ma io voglio avere fiducia in Nanu. Lui è già stato qui, conosce la piazza, sa come siamo noi i Gubbini, sa che abbiamo con lui sfiorato la C1, perdendo appunto la semifinale di C2 contro San Giovanese di Sarri. Quindi ho fiducia e speriamo che tutto possa verificarsi in positivo per il nostro Gubbiaccio. Invece per quanto riguarda Ale, da parte mia, ha tutta la mia più grande stima e non intaccherà per niente quello che ha fatto per noi. La nostra bandiera, il nostro capitano, lui avrà un ricordo indelebile nella mente dei tifosi. Perché questa cosa nemmeno passa per la mente di un tifoso del Gubbio, me compreso. Io, per me, non è successo niente. Lui, l'anno scorso, ha avuto le palle di prendere una squadra che era retrocessa e è riuscito a salvare la baracca senza fare i play-out. Quindi da parte mia c'è solamente un'enorme gratitudine nei confronti di Alessandriani e gli auguro tutte le migliori fortune e sono sicuro che verrà fuori come allenatore. Detto questo, ragazzi, il video è finito. Anche per oggi vi ho portato due video, quindi dovete tenervi anche soddisfatti. Ci vediamo per un prossimo video, ci rivedremo sabato contro il Monza e speriamo di iniziare con una bella vittoria di Nanno Calderisi. Ciao ragazzi! Ciao!